Grazie Non è semplice Utibile a chema Non è successo Umbidile Un an Non è這樣的 mi hanno fregato più di 50 mila e mi hanno impariato molto per apelli capito? avete capito? allora vi spiego come è andata all'inizio uno mi ha chiesto dov'è dir? urbidile? dov'è dir? urbidile? ratenabbo dov'è dir? urbidile? dov'è dir? urbidile? dov'è dir? urbidile? ratenabbo avete capito? dov'è dir? urbidile? dov'è dir? urbidile? Dov'è un vigile? Un vigile! Ah che nappo! Dov'è un vigile? Un vigile! Dov'è un vigile? Un vigile! Ah che nappo! Ah che nappo! Dov'è un vigile? Un vigile! Ah che nappo! Vabbè non gli ho dato! Ma hanno detto ah che nappo! Avete capito voi il DM? Io sono i cazzà! Io non devo so portare questo e se ne fregà! Avete capito voi il DM? Dov'è un vigile? Un vigile! Vannateli subito questi suoi! Io li voglio vedere sopprire! Pensate che mi hanno derubato! Capite voi il GM? Eh? Ah che nappo! Dov'è un vigile? Un vigile! 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 Ah che nappo! Dov'è un vigile? Un vigile! Dov'è un vigile? Un vigile! Dov'è un vigile? Un vigile! Ah che nappo! Grazie a tutti